Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare il diario dell'andata dei quattro quarti di finale di Champions League. Andiamo in ordine cronologico e partiamo dalle gare di martedì. Benfica-Liverpool 1-3, Rez che ipotecano il passaggio del turno in semifinale. Non ho visto tutta la partita, ho visto solo una sintesi di una mezz'oretta, però comunque sono riuscito a farmi un'idea sulla partita. Un primo tempo in cui Liverpool ha stradominato una squadra aggressiva che faceva un pressing alto, determinata nel recuperare palla agli avversari. In attacco poi non c'era un centroavanti puro, però comunque vedevi un'ottima intesa e degli ottimi scambi di posizione tra i tre attaccanti. Liverpool comunque per un tempo avanti 2-0. Nel secondo il Benfica abbozza una reazione, segna il gol dell'1-2, ma poi il Liverpool segna il terzo gol con Luis Dias. Un risultato che poteva essere anche un po' più ampio se non fosse stato per il portiere Vlaco Dimos, che ha compiuto veramente delle buone parate. Veniamo poi a Manchester City, Atletico Madrid 1-0. Una partita che si può riassumere semplicemente così. 21 anni, ma una personalità veramente fuori dal comune. Entra e al primo pallone toccato fornisce un assist artistico a De Bruyne, che segna il gol vittoria. Potenzialmente tra i top 3 al mondo. Potenzialmente un campione. Semplicemente Phil Foden. Foden che entra nella ripresa e vince la partita contro l'Atletico Madrid. Una partita comunque bruttina. Un Manchester City che ha fatto tanto possesso palla, ma un possesso palla a fine a se stesso. Sterling e Marez non saltavano mai l'avversario. Anche Cancelo l'ho visto un po' impreciso. Dall'altra parte un Atletico Madrid che ha giocato una partita obsoleta. Una squadra che si è difesa per tutti i 90 minuti con il 5-3-2. Ripartiva poche volte, non ha praticamente mai tirato in porta. E poi non ho neanche tanto condiviso i cambi del Ciolo. Perché ti toglie Griezmann, che non stava comunque facendo una buona partita per mettere un altro attaccante come Correa. Sullo 0-0 e poi sull'1-0 del City toglie Joe Felix. Inconcludente, evanescente, ditelo come volete voi per mettere un centrocampista come Lemar. Quando avresti dovuto osare un po' per cercare di pareggiare la partita. Alla fine ne viene fuori questo 1-0. Risultato ribaltabile nella partita di ritorno. Ma e col Cioneros dovranno fare un tipo di gara ben diverso. Veniamo poi alle partite di ieri. Via Real, Bayern Monaco 1-0. Risultato a sorpresa. Ottimo Via Real. Sottomarino giallo che ha giocato veramente da squadra. Compatto, tonico, coeso, ben organizzato. Tutti si aiutavano. Bravi poi anche a raddoppiare i portatori di palla avversari. Via Real che era spesso pericoloso quando partiva in contropiede. Non si è neanche mai abbassato troppo. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo alla prestazione della squadra di Unai Emery. E che poteva esserci un po' più di concretezza sottoporta. Dall'altra parte invece ho visto un Bayern Monaco bollito. Una squadra slegata tra i vari reparti. Una difesa che in occasione del gol di Daniuma è stata letteralmente tagliata fuori. Una squadra che ha attaccato in modo caotico nel secondo tempo e che mai riusciva a tirare in porta entrando in area di rigore. Il motivo per cui vedo la squadra così sconnessa secondo me è l'assenza di Goretzka a centrocampo. Entrato nel secondo tempo sì, però non è riuscito a dare il giusto supporto alla squadra. Nonostante la sconfitta però io comunque continuo a vedere il Bayern Monaco favorito per il passaggio del turno. È molto più forte del Villarreal. E poi nella storia di questa competizione ne abbiamo viste di situazioni dove la squadra più forte perdeva la partita d'andata. E poi nel ritorno la ribaltava anche in modo fragoroso. Concludiamo poi il tutto con Chelsea-Real Madrid 1-3. Un risultato che avvicina le merengues alle semifinali. Un Chelsea inconsistente, più possesso palla rispetto agli avversari. Però una squadra inconcludente in fase offensiva. In difesa l'ho vista abbastanza scordinata. L'unico che mi è abbastanza piaciuto, Kai Havertz, al di là del gol, ha cercato di prendersi la squadra sulle spalle il più pericoloso dei suoi. E poi un appunto su Lukaku. Lukaku che entra ed in due minuti sbaglia due gol davanti alla porta. Segno che questo giocatore, come ho già detto altre volte, è un giocatore solo fisico, con poca tecnica. Un giocatore che va bene per la nostra Serie A, ma che in Premier League ed in Europa veramente vale zero. Insomma, Lukaku è l'immagine di Conte. Tanta foga, tanto fisico, tanta grinta. Bene per i successi nazionali in campo nazionale. In campo europeo, veramente, è un giocatore che è a un passo da valere zero. Per quanto riguarda il Real Madrid, invece, non è una squadra che gioca un calcio spettacolare. Non è una squadra così tanto propositiva, però non è nemmeno una squadra che fa catenaccio e che sta sempre sulla difensiva. Vedo un Real Madrid pragmatico. Una squadra che sa pazientare ed amministrare le partite. Real Madrid, che difesa parte, ha disputato una buonissima partita. Courtois, le volte in cui è stato chiamato in causa, ha risposto presente con delle belle parate. Il centrocampo ha stravinto il confronto contro quello del Chelsea. Modric ha disegnato calcio per tutti i 90 minuti. Casemiro ha recuperato diversi palloni, faceva un ottimo schermo davanti alla difesa. Valverde, poi lo vedevi che andava a pressare tutti gli avversari, non stava fermo un secondo. Vinicius, giocatore per il quale io non è che straveda più di tanto. Ha comunque giocato bene ieri. Spina nel fianco della difesa del Chelsea. Molto veloce, fornisce l'assist per il primo gol di Benzema. La critica che mi sento di muovere nei suoi confronti è che deve essere più incisivo sotto porta. E poi c'è lui, Karim Benzema. Un attaccante veramente indescrivibile. Cioè, io non so le parole per come definirlo. Seconda tripletta consecutiva in Champions League. Non so proprio che parole utilizzare per descriverlo. Dico solo una cosa. Con che coraggio i tifosi interisti qualche anno fa dicevano che Icardi fosse più forte di Benzema e che non avrebbero mai fatto lo scambio Icardi per Benzema perché Icardi è il loro capitano e tutte queste puttanate qui? Ragazzi, per favore, non paragoniamo la merda con la cioccolata. O se si vuole parlare di questa. Non paragoniamo la Gelmini con la Melissa Satta perché veramente fare un paragone tra Icardi e Benzema è come paragonare la Gelmini con la Melissa Satta. Benzema che comunque segna tre gol. Primi due gol, due opere d'arte. Il primo un terzo tempo maestoso su una pennellata di Vinicius. Secondo gol anche più difficile dell'altro perché quando gli è arrivato il cross dalla destra di Modric lui non è che è andato incontro alla palla è arretrato e poi l'ha colpita. Terzo gol, il meno bello dei tre però è stato un gol di scaltrezza perché in quel momento lui era in fiducia dopo la doppietta nel primo tempo. è andato incontro al portiere sapendo che già poteva fare una cappella che infatti ha fatto. Va bene ragazzi questo è stato un po' il riassunto dei quarti di finale di Champions League fatemi sapere cosa ne pensate io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube a seguirmi su Facebook a seguirmi su Instagram a lasciare un commento a lasciare un mi piace a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisfero detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi